Gravenna 2012, quinta edizione, siamo qui in piazza e come di consueto facciamo una panoramica degli espositori che affollano questa piazza. Siamo con Franco Loffredo del punto Enel qui di Gravenna a cui chiediamo che cosa esponete, quali sono le novità principali qui da Enel. Bene, buongiorno intanto a tutti. La grossa innovazione di quest'anno è la presenza di movimentazione elettrica quindi tutto quello che è inerente al green. Abbiamo esposto una vettura, una smart attrazione completamente elettrica che verrà alimentata, e questa è la grossa novità, da colonnine che Enel perispone sia sul territorio pubblico quindi public station e a richiesta del cliente possiamo installarle anche presso il domicilio e quindi parliamo di home station. Questi sono caratterizzati da contratti molto particolari perché fatta, cosa molto importante, per l'home station ha un prezzo fisso che ad oggi è di 80 euro mensili. il cliente può caricare l'autovettura a tempo indeterminato, per mani carichi limitati sia nella propria abitazione che nelle pubbliche public station di cui parlavamo prima che verranno installate nel territorio. Quindi è una grossa innovazione per il movimento ecologico sicuramente da spingere come cittadini e nel rispetto un po' di quello che è l'ambiente. Ecco, altre novità invece oltre a questo importantissimo che ha appena nominato? Noi perseguiamo con i nostri contratti green, sempre in energia, caratterizzati da sia la classica energia elettrica ma non dimentichiamo il gas, sempre con contratti di plurimi che possono andare a rispecchiare le esigenze di ogni singolo nostro cliente. Grazie a Franco Lofedo, buon lavoro. Grazie a voi, di nuovo, buongiorno. Grazie a tutti.